Ciao a tutti bellissimi e bentornati nel tempio del... no, non nel tempio, è il portale, sì esatto, niente, dai schizza subito dentro che... Oggi dobbiamo andare a esplorare questo bellissimo posto, questa colonia di endermen. Non guardare, Lari, guarda la cobblestone, ma quanto è bella questa cobblestone! Sì, bellissima, hai visto le sue forme? Mi sono innamorata della cobblestone. Vabbè raga, ma quanti endermen ci sono? Ce ne sono un po' troppi. Ciao ragazzi! Ah, eccolo lì, ok, allora aspetta, prendo un attimo di materiali perché... Cosa è successo? Perché nello scontro col drago, ragazzi, c'era sta croce, ma è veramente una croce, quindi voi direte, ma no, è un falso, perché è possibile, però la cosa che appunto è certa è che non l'abbiamo messa lì noi, sennò non si è spawnata casualmente. Esatto, si è spawnata assolutamente a caso, però è veramente curioso perché è al centro, è al centro di quest'arena, cioè è impressionante. Ma di solito, se ti ricordi, erano un pochino più lunghe. Sì raga, ma è una croce, cioè, scusate, falla vedere bene, è veramente una croce. Ma se ti ricordi l'altra volta era più lunga, era tipo così, o così, o una roba del genere. Ma, cioè, assurdo, ma proprio al centro, da brividi, da brividi. Allora, facciamo una scalinata per arrivare a quel posto lì. Sì, 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 sì. Pavora dell'altezza e stare su quest'isoletta non è che mi renda molto... Certo, certo. Dai, ti ho guardato in faccia. Serio? Ti sei innamorato? Che schifo, vai via. Allora... Ah, una perla. Allora, facciamo una scalinata. Ah, effettivamente ci servono le perle, Vlade. Ok, posto. Allora, facciamo una scalinata per... No, stavo per guardarlo. No, non guardarlo, è brutto. Sei brutto Enderman. Ragazzi, non si sa se troveremo qualcosa in questa puntata. Noi cerchiamo di trovare qualcosa per il mio medito. Vorrei l'elitra. L'elitra, sì. Vorrei l'elitra per avercelo già, per viaggiare a veloci. Certo, perché guarda, la usiamo tantissimo l'elitra, facciamo schifo. In questo caso la userei. Per? Volare. Certo. Per cosa? Secondo me la mette lì nel magazzino e lì ci rimane. No, no, no. Con la polvere e tutto. No, anche perché, prima, sai perché non usavo l'elitra? Avevo paura. Oltre a paura, avevo il fatto che il problema dell'elitra era che una volta finita ti dovevi arrangiare, dovevi venire qui a cercare un'altra. Quindi, adesso che ci sono i Phantom e te la puoi riparare, capisci? Allora, tienti sta perla. Brutta. No! Prendi. Prendi? Ok, ci siamo. Andiamo. Oh, oddio. Lari, Lari, attentissima. Ti prego, stai. Ma dove sei? Dove sei? Perché non ti ha tipizzato? Non mi ha tipizzato. Ma dai. No, raga. Vabbè, tipizzati qua. Cioè, hai visto che ha perso l'obiettivo? Mi ha perso comunque l'obiettivo. Sì, sì, sì. Ma guardate, il barco è qui. E come faccio? Vabbè, tipizzati qua. Che tanto non hai altre perle, no? No. Vabbè, lo uccido, ne uccido uno. Siamo in una zona veramente schifusissima, eh. È il peggior... Ti prego, dammene uno. Ti prego. È il peggior posto in cui atterrare. Il peggiore. Ma la data? No, devo ammazzare un altro. E niente, noi ragazzi siamo qui ad aspettare che l'aria abbia una perla. Sì, ma sto Enderman non si avvicina. Il bello è che io ne ho una. No. Però non ho come dartela. Grazie. Ma, ma scusate, ho attaccato... No, vabbè, sta succedendo cose salissime. Uccidine alcuni, per favore. Ti giuro, allora, io stavo attaccando quell'Henderman ed è completamente... Cioè, è morto da solo. Anzi, sai una cosa? Prenditene di più di perle, perché non ho voglia di fare chissà quale. Io usero direttamente la perla per andare lì, ragazzi. Quindi l'aria dovrei fare la stessa cosa. Cosa? Sì. Guarda che siamo su un'isoletta nel mezzo del nulla. Quindi devi prendere almeno due perle. Cioè, va bene, va bene. Sbrigati. Ok, in teoria ci sono. Aspetta che mi riprendo un po' di salute, perché... Riuscirei a beccare il barco stavolta. Non lo so, ma ti giuro, ma l'ho beccato. Appena ti tipizzi stai ferma, eh. Oh, l'ho beccato. Non muoverti appena ti tipizzi. Oh mio Dio! Appunto, ferma lì. Ciao. Ma che roba! Lo so, è terribile. Ah, in là dobbiamo andarla? Sì, esatto. Ciao! Ciao alla gente! Oh, perfetto, ci siamo. Adesso non ci resta che esplorare questi bellissimi posto. Fammi mangiare, che ci ho fatto. Oh no! Non posso mangiare perché i cuoricini... Ora, ora posso mangiare. Allora, vediamo cosa ci riserva questo mondo bellissimo. Questi coralli ci servono? No. Nè. Nè. No, a noi ci interessano solo le fortezze e le navi. Secondo me troveremo un tubo. Non troveremo niente. Viaggeremo per chilometri. Ma come sempre. E rimarremo bloccati qui per sempre, perché non abbiamo come tornare a casa. Bello. E niente, finirà la vanilla. Finirà qui la vanilla. Ultima puntata della vanilla. Yeah! Ok. Abbiamo trovato qualcosa di niente. Finalmente abbiamo dovuto fare un ponte chilometrico per attraversare un'isola dall'altra, perché non bastava una perla di End. E mi sa che non basta neanche qui. Bene, Rari. Metti in gioco le tue doti di architetto. Io lo so che cado. Sì, anch'io. Ma infatti fallo bello grosso come ponte. Non farlo di uno. Ti prego, mi dai l'ansia. No. Sto shifta? No. Dai, non mi fa ridere, Vlad. Non guardare in alto che poi magari arrivo un Ender. No, vi giuro, sto spammando shift. No, no, ma fai bene. Il mio dito è incollata alla tastiera. Sto arrivando? No. Dai, sto arrivando? Sei a metà strada. Quanto manca? Quanto manca? Sei a metà strada. Dai che arrivo e ti proteggo io. Da cosa? Da me stesso. Perché ti prende il palco. Sto shifta? No, no, io. Ah, lo stai dicendo al tuo cervello? Sì, esatto. Ok, bene. Dai che ci sei quasi, Lari. Oh, mio Dio! Hai finito la terra? Non ne ho ancora. Pieno, piano, piano. Vabbè, che adesso sei al sicuro. Se cadi, no, non a terra. Non è vero. Cadi nel vuoto. Adesso, adesso sei a posto. Se cadi, ah, bene. Quanto manca? Poco. Qualche blanco. Quanto manca, mamma? Mamma? Quanto manca? Ok, ci siamo. No, c'è la nade. Bene, bene, bene. Già triste questa puntata. No, no. Ciao, belli. Ciao. Aspetta che prendo l'arco. Vabbè, adesso c'è per uccidere quei puzzoni. di shulker che mi danno un fastidio incredibile. Ma perché è passato? Cioè, la freccia è passata attraverso il muro. Ma ti conviene usare la spada con stristicosi che frena. L'arco non è che fa molto. Ok, ci abbiamo fatto. No, il parkour. Piango. Salta Larissa. Che brava. Oh, che doti da parkourista. Oh, no. Che brutta cosa. Fatale. Perché l'hanno dovuto realizzare così? Non era facile fare una scala a chiocciola e basta? Ok, grazie ragazzi. Vai fino su. Ma dici che la fortuna sarà dalla nostra parte? No. Ok. Non ci sarà nulla. Potete beccarmi? Oh, grazie. Genialissimo. Anche perché già le litre ce lo scordiamo. Eh, lo so, lo so. Mi potete beccare una pallina? Grazie. Oh, grazie. Per favore. Guarda, c'è, posso spoilerarmi le cose? Sì. Ma io... Oh, ci abbiamo fatto. Finito. Finito qua. Sì. No, Larissa. Ok. Allora, ora mi metto a toglierli. Levita, levita. Bravo, Vlad. Levita. Lo becco, lo becco. I puzzoni. Ok, dai, dai. Apri, salio ancora un po' più su. Sei, ciao. Presi tutti? No, non ho preso un tubo. No, dico, presi tutti gli... Ah, i mocciosi? I mocciosi lì. Eh, no, sì, 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 ho presi. Allora, vediamo un po'. Vabbè, dai. Corazza di ferro che può andare come... Sopra mobile. No, per andare a zappare così come le gambiere. Però almeno c'è il piccone. No, picconeficienza 4. Era questo, yeah. Te lo regalo, Larissa, tieni. Ma no, io ho il cercapatate. Non abbandonerò il mio cercapatate per quello Larissa. Io invece ho un piccone di diamante. Potemi prendere l'esperienza. Ah, c'è anche l'altra parte, è vero. Ah, sì. Ve l'ora dimenticata. C'è ragione. Come si fa ad arrivare lì? Ok. Ah, ma cosa? Ma perché c'è un Enderman qua dentro? Come hai fatto ad arrivare lì, Larissa? Ma c'è un'uscita? No, zio. Aspetta. Ti prego. Ok, a posto? Non c'è nulla. C'è un signore? Serio? Buongiorno. Ciao, signore Enderman. Ciao. Togliamo il disturbo. Aspetta, perché c'ho sta roba? Non posso andare adesso a farti? Che schifo, dai. Abbiamo trovato armature di farro, carine, ma servono solo quando devi andare a raccogliere i materiali per non sprecare quelle di diamante. Ah, ok. Ma dai, c'è un po' di expo. Esperienza! Grazie, se no, ci si fa nulla con questa, non ho la pazienza. Pazienza. Andiamo! Ok, non ci resta che cercare un'altra, perché non possiamo fare nulla, così. È una sola che mi ha dato un'armatura. Di nuovo devo fare quelle scalinate dalla Madonna. Mi tocca? Eh sì, ti tocca, per forza. Mi tocca? Perché vedo che non c'è altro modo. Dai, io ti assisto. Eh, ovvio, ovvio. Finalmente! Sì, no ragazzi, c'è... Ci abbiamo messo un po' Ma do. Solo te, solo te. Ma perché anche a me? Ma perché? Ma che ho... Ma raga, mi odio. Ehi, via, via. Ma che... Ma perché? Perché odiano anche a me? Dovrebbero odiare solo te. Guarda qua. Guarda. Ne ho un altro. Ma come è possibile, Vlad? Aiutami. Perché? No, ma sto morendo. Ma cosa? Ma no, sei a posto, guarda, tranquilla. Madonna. Ti vado a prendere le esperienze. Ok, ragazzi. Allora, ci abbiamo messo un botto a trovare sta roba. Esatto. Perché non trovavo assolutamente nulla. Neanche come quella di prima, che era semplicemente una torre basta. Qui invece, a quanto pare, c'è anche la nave. Quindi c'è l'Elytra. In teoria sì. Ce ne sarà solo una. Ce ne sarà solo una, però vabbè, ce ne facciamo una ragione. L'importante è arrivarci. Allora, io vado kamikaze, ok? Sì, ma anch'io. Facciamola in fretta, non perdiamo tempo. Grazie. Ah, ma c'è un ender, ma perché mi stanno iniziando? Ah, eccoli, tac, tac, ok. Perché mi sta attaccando un enderman schifo? Che non muore, raga, è assurdo. Ok, preso. Si va su, si va su. Cioè, un enderman invincibile. Ma io, ma da dove sta? Ah, ecco ti qua. Shulker maledetto. Ah, mi ha colpito. Anche a me, anche a me. Vabbè, ci ha aiutato un pochino. Vabbè, in questo caso no, perché è lentissimo. Scali. Ragazzi, mi beccate? Mi fate un favore, veramente. Ok, dai, saliamo. Facciamoli fuori. Subito. Vabbè, che prima dobbiamo salire, quindi non dobbiamo uccidere subito. Sì, ma tanto adesso, appena arriviamo qua su, eh, infatti già sono partiti. No, ma perché qua era sigillato? Ai, ai. Grazie. Qualcuno mi becca? Gentilissimo. Sì, grazie. Stavo anche mangiando nel tempo. Bene, 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 perfetto. Dai, che non sono più così spaventosi come erano nel tempo. Ma no, come una volta, no. Questi ormai fanno pena. Sì, però veramente, questo, questo coso che ti spara verso l'altro, se fosse più veloce, ma è lentissimo. No, ma ora che noto l'aria, il mio arco è molto più potente della spada contro sti cosi. Eh, per quello che ho pensato, oh no, allora vediamo l'accesso sollevata. Mi era finita la levitazione e stavo per morire. Oh mio Dio. Pala, efficienza 3, fortuna 2, indistruttibilità 3. Che sedere. Poi, stivali di ferro, passo gelato, però maledizione dei legami, bardatura d'oro, piccone di ferro, efficienza 3, ma vabbè, spada di ferro, filatezza 3. No, no. Prendo io la pala, grazie. No, perché? Cosa, sei andato giù? Sto evitando dello spazio infinito. Ma sei fuori? Perché? Perché? Guarda quante palline mi stanno perseguitando. No, io mi stanno... Ma da dove sei uscito? Ma non lo so. Guarda... No, vabbè, è illegale. Illegale. Aspetta, aspetta. Cioè, basta! 3.000 palline, raga! Sto sclerando! Sto per sclerare malissimo! Prendvalve. Dai, 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 ti prego. Allora, la sua è controllato, giusto? Sì, 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 ho preso semplicemente la palla di diamante e basta. Non c'era nient'altro. C'erano le cose di ferro, ma facevano schifo. Allora, questo è andato, no? Ah, no, stavo cercando di salire adesso. Cerchiamo di farsela. Sì, dai, 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 che ce la possiamo fare. Yeah, sono caduta! Io ce la fatta. Super Lari, niente da fare. Super Lari è un mostro. È parkurista, però niente da dire. È troppo forte Lari nel land, non c'è niente da dire. Sì, sì, esatto. Beh, ragazzi, mi beccate? Grazie. Ah, ma siete pochi qua? Allora va bene, va bene. È più piccola. Sì, sì, questa torricella. Andiamo. Queste, vi prego, qualcosa di figo, vi prego, vi prego. No, no, no. Elmo di ferro. Perché sto prendendo fuori? Cioè, raga, piccone di diamante, ripristino, efficienza, citture. Ma perché le spoiler? Aspetta, posso arrivare? Raga, assurdo, eh? Posso arrivare? Ok, allora niente, no, niente. Non sapete nulla, voi. Non sapete nulla. Non sapete nulla. Che se anche se ci sarei questi chest, Brad? Oh, mio Dio, sono troppo curioso. Se riuscissi ad arrivare, perché mi sparassero. Dai, fai schifo. Abbastanza. Guarda, non levito. Uffa. Eh, vabbè, dai, mi faccio una scala. Ok, cosa c'è? Wow, un piccone con ripristino. E vabbè, rip. Ho trovato un piccone con ripristino, efficienza. Ma pensa un po'. Wow, poi protezione dal fuoco. Wow. No, ma guarda che piccone tanta roba, eh. No, infatti. Poi qui diamanti. Protezione dal fuoco. Wow, bellissimo. Super figo. Tantissima roba. Ma qui, ma dove si va? Non lo so. Sul tetto. Dobbiamo andare dalla nave, zio. Zio, non so, ma dobbiamo fare un po' con te, zio. Perché non c'ho la perla? Dobbiamo tornare indietro e andare lì. Yes. Ah, 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 palline, palline, palline. Aspetta, aspetta. Entra dentro subito, subito, subito. Come faccio? Aspetta, andami. Dai, che spiterino. No, ti odio. Ti odio tantissimo, veramente. Mi fai arrabbiare in un modo incredibile. Cioè, guarda, ti dico, muoviti, muoviti. Aspetta, aspetta, aspetta. Io sono fatta, cazzo. Ti odio, sei dentro. Pazione di cura. Ok, posso. Allora, c'è il shulker qui. C'è il shulker. Dai, perché? Ok, vediamo cosa c'è, diamanti, diamanti, diamante. Piccoli, quali, pristino. Poi, cazzo. Non dai, sti, vali, diamanti, sono tanta roba. Ah, non li hai visti? Ma va, li rimetto a posto. Wow, protezione 4, desti bruttati. Io se mi di marvaliente, non li prendo. Boh, prendili. Prendi l'elitra. Io? Sì. Mi dai questo onore? Sì. Perché poi, perché non hai preso la roba dell'armatura di diamante? Cioè, sei scema. Aspetta. C'è uno shulkerino. Ti prego, vuole, ti prego. Armature di diamante gratis. Ok, ora dobbiamo andare su. E lo sai che devi, dobbiamo fare tutta l'impalcatura affinché non cada la testa di drago, vero? No, la sto già facendo. Non serviva il piccone, guarda la testa. E qua, scema. Ah, io sono andata qui. Non mi ricordo più nulla, sto male. Si prendeva facile, vero? Mi sono dimenticato. Sì, ma fai tutto, tutto sicurezza. No, sì. E... E... Olè, ci siamo! Yeah, ciao Nari. Ciao, che brutto che sei. Nell'ivera, semplissima. Bene, possiamo tornare a casa adesso, sono felice. Onnitra, yeah. Bene, ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto, ricordatevi, vi iscrivetevi e vi iscrivetevi al nostro video. Ciao! Ciao! Ciao!